E' stato un consiglio comunale straordinario acceso e partecipato a quello svolto setteramo con all'ordine del giorno il nuovo ospedale di secondo livello da realizzare in città, da anni al centro della diatriba politica e non solo, in particolare per la sua location. Presenti all'assise comunale l'assessore alla sanità Nicoletta Verie e il direttore generale della ASRI, Giosia, oltre ad altri esponenti regionali. A sorprese è arrivato anche il presidente della regione Marco Marsiglio che ha rimarcato l'importanza di decidere in tempi brevi da parte del consiglio comunale dove realizzare il nuovo nosocomio. Non è la regione che decide a danno della città dove si debba fare, se la città ha delle buone ragioni, delle fondate motivazioni per interrompere questo percorso e anche giustificare perché sono stati spesi i soldi che evidentemente andrebbero persi, la progettazione, per non parlare del tempo che non è gratis, lo faccia, ce lo mette nelle motivazioni e noi andremo a fare un nuovo progetto altrove, se è Villa Mosca è Villa Mosca, è evidente che per fare un nuovo progetto ci vorrà più tempo, quindi l'ospedale nuovo arriva prima, se si dà continuità al percorso già fatto e che sta andando avanti da anni senza che nessuno ci avesse mai detto di fermarci o di fare diversamente. Di diverso avviso il sindaco di Teramo, Gian Guido d'Alberto. La regione Abruzzo poteva decidere già prima e può decidere oggi immediatamente sulla realizzazione di un nuovo ospedale a Villa Mosca a destinazione urbanistica sanitaria, quindi non accettiamo questo gioco del rimpallo di responsabilità, siamo qui per approfondire ulteriormente la discussione e se serve fare un ulteriore atto di indirizzo che segue quello che abbiamo già detto in campagna elettorale, nelle linee programmatiche e che è chiaro ed evidente. In realtà quello che è emerso oggi è che la regione ha già assunto con il centrodestra a questo punto, diciamo d'accordo con il centrodestra Teramano, di realizzare il nuovo ospedale non a Villa Mosca ma realizzarlo a Piano Daccio. Oggi viene qui in una situazione di grande difficoltà, di contraddizione politica, mi farò carico io di trovare la soluzione e la strada col Presidente della Regione per assolutamente avviare immediatamente, partendo da Villa Mosca, dal piano regolatore, la discussione che ci consente di avere il nuovo ospedale nella nostra città. E poi c'è un dato che secondo me continua ad essere quello più preoccupante, anche oggi nel comizio del Presidente della Regione non si parla assolutamente della copertura finanziaria. Durante gli interventi l'assessore alla sanità Veria ha ribadito che l'ospedale Mazzini non verrà dismesso, anzi rimarrà operativo per la medicina territoriale, questo anche con la costruzione di un nuovo ospedale in alta location rispetto a Villa Mosca. Il Mazzini che oggi esiste continuerà ad erogare tutti i servizi per i pazienti che hanno bisogno di indagini diagnostiche, dialisi, riabilitazione, radiologia, ospedale di comunità, casa di comunità. Quindi la presa in carico di tutti quei servizi nel paziente e del paziente sul territorio avverrà presso l'ospedale denominato Mazzini, cosiddetto il vecchio ospedale.